Lo che ho sentito sono le urla degli agnelli, in questo caso in generale, degli animali che vengono uccisi tutti i giorni per ogni tipo di usanza, per ogni tipo di festività, per le nostre abitudini. Parliamo degli agnelli, la provocazione che abbiamo voluto portare in piazza è l'agnello da latte e il neonato da latte perché in effetti l'agnello è un neonato che viene ucciso a 22 giorni. In questi giorni al supermercato viene scritto agnello da latte, cosa significa? Che ha 22 giorni, perché altrimenti dopo i 22 giorni viene considerato passato perché inizia a brucare l'erba. A presto!